la ragazza accettò le regole senza lagnarsene e un giorno che stava studiando le carte ad un tratto disse di non sentirsi bene era pallida la feci sdraiare su un divanetto offrendole dell'acqua mi fece pena le diedi un passaggio a casa e iniziò così riuscì ad abbindolarmi e ci frequentammo per alcuni giorni pranzavamo insieme parlavamo alla fine il signor presidente acconsentì a lasciarle in visione i documenti che le interessavano e poi l'accompagnai a casa e fu l'ultima volta che la vedi a